Non so se era come nel libro, io mi baso molto quando scrivo su una sorta di mistificazione della memoria, non so come dire, mi illudo di poter ricordare com'ero, in realtà non posso sapere quello che sentivo, provavo in quei momenti, ricordo alcune cose adesso che penso non siano esattamente quello che provavo allora. Però mentre scrivevo Maria per me era così, molte cose che c'è nel libro sono vere, tipo quando fermò una lezione del terribile Conte Vlad di meccanica perché diceva che dall'altra parte della strada c'era un piccione che lo fissava e lui era lì che fissava una sfida fra pistoleri da un lato all'altro della strada e non si muoveva perché il piccione lo fissava. Ed erano poi i motivi per cui anche se non sono mai stato uno studente modello, anzi sono stato uno studente modello, nel senso che io non facevo casino a scuola, non ero di quelli che facevano confusione, i bulli, queste cose così. Però non sono stato mai un buon studente, nel senso che avevo un rendimento meno che mediocre, però a me piaceva andare a scuola, a me mi è sempre piaciuto andare a scuola, io ho sempre trovato la scuola uno dei posti più belli in cui sono stato. Aveva queste cose, insomma, secondo me sbagliate, inutili, che erano le interrogazioni e i compiti in classe, però a me dice che era fatta così, bisogna andarci. Lì c'era il ministero, però c'erano i miei amici, succedevano sempre queste cose particolari e mi piaceva andarci la mattina. E penso che nel libro, a volte mi fa questa domanda, non ne esce bene la scuola dal mio libro, io dico ma perché? Nel senso che quando lo leggi capisci che i professori sono appassionati, tipo la loro passione, ed era così. Io andavo a Liti, non capivo niente di quello che mi insegnavano, però quando me lo spiegavano mi piaceva ascoltarli, perché tipo se mi spiegavano Camorani, Kirchhoff, i teoremi di Kirchhoff sulle lettere elettriche, potremmo aprire una parentesi su Kirchhoff, però lasciamola chiusa perché io so solo il nome, oppure Baladelli mi spiegava le turbine Pelton, io mi chiede, una parte di me diceva, cosa me ne frega a me delle turbine Pelton? Cioè a parte che faccio Liti e dovrei lavorare poi su sta cosa, ma cosa me ne frega? Però quando mi spiegava le turbine Pelton, la maggior parte di quello che avevo dentro, l'ascoltava come se fosse un romanzo di pirati, perché era appassionato, perché ti diceva come erano state scoperte, come avevano fatto a migliorarle, ed era molto bello. Quasi tutte le materie mi piaceva ascoltarle. Poi mi interrogavano, vabbè ma quello era un'altra cosa che era indipendentemente. E quindi la scuola era così, cioè la scuola per me è i professori, come erano i loro tic, le loro piccole manie, ma erano anche i miei compagni di classe ed era bello, mi piaceva, davvero mi piaceva. Dicevo prima che molte cose che leggiamo in questo libro non sono cambiate rispetto alle cose che succedevano nelle scuole nei nostri tempi, penso di interpretare il mio pensiero, ma anche di molti altri. E uno sicuramente di queste è, e fortunatamente non cambierà mai nessuna scuola, è la corsa alla merenda nell'intervallo, che tu tramite Baldo Creonti ci racconti così. Comprarsi la merenda era un'impresa, perché ogni classe cercava di mandare prima della campanella una guida a pasche con la lista dei panini per tutti. Poteva capitare di stare anche in fila alla fine dell'intervallo, per fortuna quando arrivai c'erano solo due del professionale che sgaiatolarono subito nell'ombra stringendo i loro panini. Ne vendevano solo di due gusti, uno era all'involucro di plastica e salame e l'altro al prosciutto cotto e involucro di plastica. Il pane era di gomma se ti andava male, se rifortunato ti toccava quello fragrante di trucciolato. presi un prosciutto cotto e un involucro di plastica per me e due salame e involucro di plastica per figna e andiamo avanti. Cioè questo veramente, non te l'hai inventato questa caratteristica, l'abbiamo vissuto tutti. Di quelle cose poche sono inventate in quel libro, poi l'ambientazione è vera insomma. Mi sono dimenticato, vedi quando scrivi dopo ti vieni in mente, c'era un'altra corsa alla merenda era forse ancora più buffa quella che dovevi fare al Mattei di Faenza che mandavano sempre le classi uno prima per prendere tutte, la mangiare per tutti e a Faenza non avevano i panini, avevano, c'era un signore di Casola dove ha fatto il bienio, dove ha fatto il bienio, il signore che aveva l'appalto delle merende a Faenza era un casolano e aveva sta pizzeria, faceva i quadretti di pizza e a Liti ne faceva due, potevi prendere la pizza solo pomodoro e quella con l'olio e il rosmarino. Mi ricordo sti ragazzi che prendevano 6-8 pizze per quelli delle loro compagnie di classe quando prendo quella al pomodoro, quando hai due mani, come quasi tutti gli esseri umani ne porti quattro al massimo, quando ne hai 7-8 si vedono delle cose tipo la pizza pomodoro messa sotto l'ascella così, vedi questa gente che colava pomodoro ma sai alla fine penso che, allora io ho frequentato solo Liti, non so com'era ragioneria, geometra, classico, liceo lo so come sono adesso i panini sono uguali e so che sono sempre quelle avendolo fatto poi in quegli anni adesso i distributori tipo sono all'avanguardia sono distributori automatici diciamo che sembrano astronavi di Star Trek uno dei primi distributori che vedi a Liti che hai raccontato nel libro era particolare era questo golem, a Imola c'era questo golem di metallo grande come, evidentemente le facce dell'isola di Pasqua, è così che aveva una sola spia rossa, sembrava il computer cattivo di Odissea nello spazio la spia rossa che ti fissa, poi mettevi sta monetina dentro rotolava per chilometri, non arrivava mai poi quando arrivava sentivi questo rumore di temporale ed era il barattolo di Coca-Cola che arrivava da chilometri di tubi poi si schiantava nel metallo infatti usciva, tutti si lamentavano perché quando aprivi la Coca-Cola ti esplodevi in faccia ma aveva chilometri di tubi, bastava farli un po' più corti e questo era una cosa penso comune a tutti quelli che sono andati a scuola i libri poi, al di là del fatto che parlino di scuola o meno penso che poi alla fine voglio dire, viviamo tutti nella stessa pelle la scuola poi è un altro tipo di pelle che tutti abbiamo indossato o abbiamo indossato, ci hanno costretti a indossarla comunque ci siamo passati tutti e come tutte le cose, come tutti i tipi di pelle io ho sempre pensato che insomma quello che fa il solletico a me fa il solletico anche agli altri quello che fa commuovere a me è molto probabile che faccia commuovere anche gli altri e quindi è una sorta di leggere un libro a volte è una sorta di di abbraccio nel senso di di cose che fai con gli altri oppure come ha detto qualcuno sono lettere d'amore rispedite a chi tanti anni prima le aveva scritte magari dimenticate o perdute l'avevo detto a Mantua mi pare a Mantua non mi ricordo molto perché chi c'era lo sa avevo la febbra 41 quando ho fatto l'incontro avevo una pezzuola sì sembravo Gioacchino Murat c'è pure il quadro famoso che ha la pezzuola qui avevo una febbre però di quei giorni non potevi mancare il libro era il giorno prima la cosa buffa è che non mi ammallo davvero mai io non conta che ho iniziato a lavorare da mio zio ho 11 anni ho lavorato fino a 18 anni nel bar e dai 18 in poi in pizzeria quindi ho 39 anni lavoro da 28 sono in regola da quando ho 13 anni ho 26 anni di contributi se ci fosse la minima sarei già in pensione se esistesse ancora e in questi 26 anni non ho mai saltato un giorno per malattia io non ammallo mai parto per Mantova la mattina mi sveglio dico ma c'è qualcosa mi sentivo un po' strano avevo sognato palline che rimbalzano io quando ero piccolo sognavo le palline che rimbalzavano avevo la febbre infatti ho detto ma avrò un po' di febbre e per sentire la febbre infatti l'ho misurata quando sono partito per Mantova l'avevo 39 rotte però non sono uno che accusa la febbre più di tanto quindi sono andato tranquillo ma quel giorno lì l'avevo molto alto unita a un virus lasciamo stare non entriamo se no facciamo la presentazione sulla brandina come Baladelli e comunque è vero cioè nel senso che a parte che i libri sono di chi li legge non di chi li scrive poi dopo uno quando lo legge un libro che gli piace lo scrivi te capito nel libro ci metti tutto te le facce dei personaggi gli ambienti che lo scrittore più o meno descrive è comunque cosa della tua vita che cerchi di immaginarti col tuo occhio terzo occhio occhio interiore non so come si chiama e anche questo libro è una delle tante lettere d'amore che ho scritto come ho detto a Mantua è una metafora molto bella che mi sarebbe piaciuto spacciare per mia ma lo dico sempre che non è mia perché troppo io non mi sono impegnato abbastanza e sono rimasto un po' stupido ma è una cosa che ha detto Isabella Lente di un racconto di Galeano che è dei due ladri che vanno a rubare in casa di un anziano non trova niente se non un vecchio baule che sembra contenere chissà che tesori se lo portano a casa e dentro il baule non c'è nessun tesoro quando lo scassinano trovano dentro delle lettere e sono antiche lettere d'amore che questo anziano signore che viveva ormai da solo aveva dimenticato lì aveva lasciate laggiù e loro invece che distruggerle o buttarle via gliele rispediscono una a una e quindi il vecchietto quando vede ritornare queste lettere a scadenza settimanale è come se rinizia a vivere si ricorda quell'antico amore che aveva dimenticato e la Lente di questo racconto dice che è la più bella metafora sulla narrativa nel senso che un libro è così sono vecchie lettere d'amore che qualcuno ha trovato e ti rispedisce e io mi illudo spero, penso di fare questo cioè rispedisco vecchie lettere d'amore che magari tipo i miei amici che hanno fatto liti un po' se le erano dimenticate e io cerco di fare in modo che se le ricordino anche se tutto sommato per quel che sono le mie motivazioni io scrivo solo per un motivo alla fine che è il mio modo per far sapere cioè è quasi ridicolo è il mio modo per far sapere a mia nonna quanto gli voglio bene perché io non ho mai avuto possibilità cioè sono cresciuto a una scuola particolare che è la scuola romagnola per i maschi è un po' particolare perché da noi non si esternano i sentimenti alle persone a cui vuoi bene nel senso che mio nonno non mi ha mai chiamato per un nome io non ho ricordi di mia mamma che mi dà un bacio ho fatto un per la festa della mamma il resto del carlino ho fatto lo speciale qui è tutto ridere sui VIP romagnoli io non so perché ci sono finiti in mezzo allora c'era la foto di me e mia mamma il giornalista con fotografo ha detto dacci un bacio ed eravamo imbarazzatissimi perché io davvero non ho mai baciato mia mamma e lei non ha mai baciato me non ho ricordi di mio nonno mia nonna mia mamma che mi abbracciano perché non si fa così e quindi io mia nonna non gli ho mai detto nonna è stata una figata essere cresciuta da te perché non si dice è una cosa che non sta bene lo dimostri stando lì cioè io non riesco io vedo con i bambini va molto di moda è bello chiamarli amore mio così non ce la faccio a chiamare mio figlio amore perché non sono cresciuto a quella scuola glielo dimostro poi il fatto che so fargli 180 tipi di aeroplanini di carta diversi e posso stare otto ore di fila con lui a lanciare aeroplanini però non sono buono di dirglielo in privato se però mi danno un foglio di carta posso dirglielo solo che lo condivido con qualche decina di migliaia di persone mia nonna è morta avevo 16 anni ha avuto un ictus mentre ero via in viaggio studi e prima di partire non la salutai perché lei dormiva sul divano mia nonna era campionessa mondiale di dormire sul divano avevamo una vicina di casa senza televisione che veniva a vedere da noi e loro erano campionesse di sonno sincronizzato si addormentavano insieme a guardate la visione poi si svegliavano insieme allo stesso momento e poi si addormentavano era uno sport incredibile e io sono cresciuto quando sono tornato lei era in coma è morta pochi mesi dopo e non gli ho mai detto nonna quello che ho detto prima e a volte mi sembra che scrivi libri almeno i primi libri che ho scritto alla grande nel paese di Tolintesac sono dichiarazioni d'amore a mia nonna assolutamente cioè è un modo di dirgli cioè è stato anche difficile te eri fatta come eri però è stato bellissimo e questo libro era una sorta di questo io ai miei amici di Deliti non gli ho mai detto vi voglio bene a me non mi viene cioè io mi vergogno a dire queste cose qui non ce la faccio non si fa così faccio prima a scrivere un libro a metterli lì e prendere in giro me anche se non ci sono poi in realtà io ma c'è Baldo Creonti ed è il mio modo per dire a un sacco di gente che vi voglio bene poi ho degli editori che mi pubblicano ma il mio modo principale è quello solo per ringraziare e celebrare qualcosa che ho condiviso con gli altri poi scopri che a scuola siamo andati tutti e magari qualcun altro legge e dice anche io con i miei amici ero così allora alla fine anche per lui è un modo di celebrare le cose della propria vita città di Mantova cosa è cambiato Cristiano Cavina narratore uno scrittore appunto diciamo un narratore dalla prima volta quando ti hanno selezionato per le scritture giovani dove ti sei cimentato attorno a questo mito di Casablanca sì già quando è andato il tema il raccontatema a me Casablanca che io scrivo solo roba su Casola ho detto non so come farò a sgabagnarmela però c'è un'assonanza Casola Casablanca ho fatto prima sono riuscito a trasportare Casablanca a Casola perché abbiamo la fortuna che in Romagna quando poi sono crescita io è la Las Vegas dell'Italia quindi Casablanca l'ho trasformata in un disco dancing tipo le cupole di Castel Bolognese dove si balla l'Issio e ho fatto quello no non è che io poi lì avevo già pubblicato due libri l'ho fatta alla grande e tornate sacro nella persona niente nel senso che io sto a Casola abito nello stesso appartamento delle case popolari dove sono nato ci sto soli i miei nonni sono morti mia mamma abita nella casa nuova che abbiamo dove aveva la terra mio nonno io sto lì scrivo i libri però io a Casola sono il figlio di mia mamma e il pizzaiolo non parlo mai certo lo sanno che scrivo però ho questa idea nebulosa a parte i miei amici con i più giovani o chi legge il giornale che comunque mi vede in televisione quando ci vado le signore più anziane no come visto che loro hanno un'idea particolare dello scrivere i fatti delle volte vedono a caso non c'è la libreria vendono i libri nello spaccio lì abbiamo da Brusco e da Ciata che sono due tabacchi spaccio spuma il cedro cioè c'è come i saloon dell'Ouest gli spacci dell'Ouest che c'è i fagioli la rete per i cavalli il carro così il pezzo per la ruola la pistola così a casa allora vedono il libro sanno che scrivo però pensano che tipo il libro lo faccia io la notte con i fogli no e poi lo porti fuori mi dicono oh è uscito il nuovo libro ho detto sì sì bravo bravo però ti enti stretto col tuo lavorino lì che è far le pizze no io non gli dico che scrivo il libro è il mio primo lavoro da tanti anni cioè perché comunque quando sono a casa faccio le pizze nel narratore sì ha cambiato nel narratore no nel senso che a me è sempre piaciuto raccontare le storie e continuo a raccontarle io ci sono i libri ma comunque replico tutte le sere al bar nuovo di casa nel senso che io come poi molte delle persone della mia terra sono un chiacchierone nel senso che mi viene naturale io qualsiasi persona che conosco dopo cinque minuti io gli racconto tutta la mia vita come facciamo tutti noi perché noi siamo fatti così lo scrittore che comunque deve scrivere i libri qualcosa è cambiato nel senso che quando ho scritto alla grande il mio primo romanzo pubblicato era era come hai presente quando ti regalano la prima bicicletta della tua vita e ti impari a andarci senza rotelle e per dieci giorni fai i solchi nel cortile delle case popolari perché non scendi dalla bicicletta ed è tutto magnifico mi piace ancora andare in bicicletta però non c'ho più quell'innocenza lì quella spensiera testa anche perché poi c'è la gente che viene a dirti mi piacerebbe che scrivessi di più di tua nonna oppure mi piacerebbe che non scrivessi di tua nonna questo libro mi è piaciuto più dell'altro il mio preferito è questo poi non ci fai caso però comunque un po' ti condiziona no non ti condiziona però lo senti lo senti e devo dire che scrivere fortunatamente non sono di quelli che lo scrivere è la cosa che rende bella la mia vita trovo in molti scrittori che la scrittura per loro è è stata il mezzo di affermarsi anche personalmente nel senso di avere tante soddisfazioni di avere qualcosa di felice io la mia vita era è stata incasinata anche dolorosa per certe cose particolare però io sono sempre stato una persona felice nel senso che la mia vita mi è sempre piaciuta tantissimo mi piaceva tantissimo anche se non scrivessi i libri faccio più fatica a stare otto ore seduto a scrivere non ci riesco più io quando ho iniziato scrivevo otto ore al giorno sempre alla Stephen King infatti scrivo libri alla Stephen King bruttissimi degli horror così adesso scrivo di meno perché poi fumo troppo quando scrivo mi gira la testa però vedo che c'è un po' più di di mestiere in alcuni libri ho ho dovuto faticare per cavare questa cosa ma infatti il motivo forse per cui scrivo cose nella mia vita è che l'unico modo che ho di essere sincero è e rincominciare a girare in bicicletta perché io so che ho avuto questo piccolo questa piccola grazia che non vale niente non penso al talento queste cose non vale niente di però avere la capacità so fare no ho sempre saputo farlo se uno mi dice lupo mannaro quattro sedie una casa io scrivo una storia te me lo dici io ce la faccio a scriverla ho sempre saputo fare i temi mi è sempre venuto per uno per uno che andava a liti non era proprio no non era al massimo però andava bene così però quando scrivo io posso scrivere di tutto ma quando scrivo a tema così ce la faccio si legge può essere anche divertente però non è il bambino che ha appena imparato ad andare senza rotelle no per recuperare quello devo scrivere devo andare proprio intorno alla mia vita allora lì si che ritrovo un incanto anche se a volte mi scoccia perché delle volte mi metto a scrivere e dico porca miseria quando inizio a scrivere di mia nonna dopo mi commuovo no e allora è un po' come andare a prendere tirar fuori la maglia la vedi sta cicatrice qui e la riapri no e allora non arrivi mai no io per tanti anni fino ai frutti dimenticati che raccontano della nascita di mio figlio e di come io sono diventato figlio mentre diventavo padre eh dopo un po' io dopo i frutti dimenticati avevo già detto che non scrivevo più perché non ne potevo più di sta cosa non accadde subito dopo sì era bello scrivere una cosa diversa era bello condividere però non puoi stare sempre lì sai non che ti faccia male cioè io essere cresciuto senza padre per me è stato mi sono divertito un sacco no però poi quando vai a scrivere anche le piccole cose che ti fregano dopo ci pensi un po' stai male allora dici amen io quando salvo le cose che devo salvare perché devo continuare a scrivere io quando un giorno arriverò che avrò scritto magari le cose che volevo salvare le ho fatte tutte io smetto perché non mi interessa di raccontare ad astronavi o non ho niente da insegnare a nessuno non voglio non ho punti di vista su dove andrà l'Italia o su questa modernità che fra l'altro cioè io cosa ne so io abito un posto che ha 2700 abitanti fino al 94 la mia vicina di casa lavavo i panni al fiume io non so niente di modernità e forse non mi interessa neanche saperne e quindi diventava sempre più difficile mantenere l'innocenza e raccontare quelle cose lì però ho quelle storie che ci tengo ne ho ancora un paio di sicuro e quindi quelle vorrò salvarle raccontarle e spero di mantenere l'innocenza ma non mi metterò mai non riuscirò a cambiare molto non metterò a scrivere libri su cose che non non mi interessano anche se so che posso farlo perché non funziona così per me però per fortuna stai in un posto dove come possiamo leggere nei bar nel bar che è tuo nelle panchine nelle feste continuano a girare storie che meritano di essere portate alla luce forse la maggior parte sono censurate dal punto di vista dei lettori noi ci lasci un po' un minimo di speranza a dire a queste due di trovare sono tanti libri da leggere anche più belli allora tanti libri da leggere siamo al Tocatì a questo festival dei giochi di strada che quest'anno ha preso come filo conduttore un grandissimo libro dei ragazzi di Via Paglia e così non perché ti abbiamo invitato anche per questo vuoi sapere della Via Paglia io solito ti racconto una cosa bellissima non so se è bellissima però te la racconto racconta dai che dopo andiamo no dimmi prima una domanda poi vado fuori tema a modo mio no vai prima fuori tema faccio una domanda da solo devo leggere una cosa dai vai vai io non so dove ma a un certo punto molto presto ho iniziato a leggere e mi piaceva leggere ho scoperto che era un fenomeno da barracone quando andavo all'asilo perché me l'hanno detto delle ragazze più grandi di me di Casola che quando loro facevano le elementari la terza la quarta elementare avevano tutti i fratelli all'asilo delle suore li portavano andavano con le mamme che li portavano a vedere questo bambino dell'asilo che a tre anni tre anni e mezzo scriveva già ed ero io sapevo già scrivere disegnavo disegnavo sempre delle balene e poi scrivevo balena così mamma balena perché mi piaceva molto sta cosa della balena mi avevo portato in colonia da piccolissima avevo lanciato il ciuccio nel mare per darla alla balena e non so perché ho iniziato a leggere perché io poi sono cresciuto in una casa senza libri perché i miei nonni non avevano studiato mia nonna era praticamente analfabeta mia mamma aveva fatto le medie penso che non le abbia neanche finite e non c'erano libri insomma però mi è sempre piaciuto leggere e all'inizio leggevo un po' a random nel senso che leggevo i libri che trovavo a scuola all'elementario avevamo in fondo all'aula a caso a questo grigissimo armadio ministeriale che c'era in tutte le scuole chiamato biblioteca sì no no proprio un armadiazzo nell'aula pieno di questi libri buttati uno sopra l'altro erano quasi tutte le avventure di pandi mi ricordo ancora ci sono ancora le ho trovate in delle biblioteche erano avventure di Storsetto pandi esploratore quindi c'era lui che si faceva la foresta amazzonica nella vasca da bagno e mi piaceva molto la mia maestra degli elementari mi spronava a leggere e ho letto sempre a random quello che trovavo in casa di mia zia c'era qualche libro e quindi leggevo la battaglia delle midway queste cose così ma da bambino da ragazzino quello che trovavo mi piaceva però non capivo bene come funzionasse con la faccenda poi a 12 anni mi ricoverarono in ospedale non era per il gozzo io prima io sono nato col gozzo perché ho carenza di odio avevo il collo da pellicano avevo il pomo da damo a 5 anni a 6 anni dopo invece fu la volta dopo che dovevo fare un'operazione dovevo stare in ospedale a faenza 5-6 giorni e veniva sempre a tenermi compagnia mio nonno che era stato il primo a andare in pensione e passavano tutta la mattina a giocare a carte all'ospedale poi mio nonno visto che era un bullo così ha 86 anni aveva l'amante di 43 anni mio nonno era un tipo del genere andava sempre allo spaccio del bar dell'ospedale a bere il vino a intortare le infermiere cioè lui era un tipo così e mentre lui era via con la scusa che doveva andare in bagno io cambiavo le carte e le mettevo in modo da vincere e dopo 2-3 giorni che vincevo sempre mi ero un po' rotto le scatole di vincere sempre e ho detto a mia mamma portami un libro che fra l'altro mi ricordo ancora la faccia di mia mamma perplessa perché vedevo nei suoi occhi e diceva in che bottega li devo andare a comprare il libro perché penso che non fossi mai andati in una libreria in vita sua e io ero lì all'ospedale e mia mamma il giorno dopo tornò con un libro ed era aveva questa bellissima copertina blu e in mezzo alla copertina in mezzo a un ghirigoro dorato era una delle edizioni diciamo economiche per ragazzi c'era una catasta di legno con in cima un ragazzo con un berretto e una bandiera rossa ed erano i ragazzi della Via Pal io l'ho preso in ospedale a Faenza mi sono messo nel letto così ero nel ricoverato non in pediatria ma dove c'è quindi ero in mezzo a gente molto più anziana di me ho preso i ragazzi della Via Pal l'ho aperto e l'ho letto in penso tre ore l'ho chiuso solo quando ho finito e mentre leggevo dopo alla fine ho guardato ho letto le note di chi l'aveva scritto non avevo mai fatto caso pensavo che i libri fossero tutti scritti da italiani perché erano tutti scritti in italiano dopo ho detto 1907 in Ungheria così anche se non ero un grande studente sapevo più o meno come era girato il mondo e io pensavo porca miseria ma chissà come faceva sto signore che è morto tanti anni fa e sono tanti anni fa a sapere queste cose di me perché per la prima volta mi era capitato prima mi piaceva leggere ma non mi era mai capitato la sospensione della credulità quel momento quando leggi un libro in cui tu accetti tutto quello che ti dice il libro non c'è niente intorno sei proprio dentro al libro non c'è niente non c'è niente non c'è niente non c'è niente